L'opportunità di aiutare le donne che hanno subito violenza. Io sono sicura che in questo locale queste persone saranno seguite con grande amore, competenza e determinazione a dare a loro la giustizia che meritano. Però ci piace anche pensare che questo locale possa diventare il punto di svolta della vita di queste persone, che queste persone escano di qui più forti e determinate nell'affrontare la loro vita e siano sì consapevoli di aver trascorso un brutto momento, ma anche consapevoli che la vita anche per loro può essere migliore. Per questo poi abbiamo pensato, purtroppo questa è la piaga della violenza sulle donne, è una cosa antica e per questo mio marito ed io abbiamo pensato di fare una targa delle parole che già nel 1600 pare abbia detto William Shakespeare. Ecco ora ve le leggo, questa è la targa.